Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. In questo video andremo a vedere una funzionalità che è stata recentemente introdotta in Firefox Nightly, la versione quella in continuo sviluppo di Firefox, una funzionalità che di sicuro farà gioire molti di voi all'ascolto. La funzionalità in questione è la funzionalità che prevede lo spostamento della sidebar e delle schede di navigazione nella parte sinistra dello schermo dell'interfaccia grafica di Firefox. Questa funzionalità è stata introdotta a partire da Firefox Nightly 131 ed è una funzionalità presente all'interno di Firefox Labs, che è una sottosezione all'interno di Firefox dove si possono andare a spuntare alcune opzioni nuove, alcune funzionalità che il team di Firefox sta cercando di testare su larga scala. È una funzionalità, vi dicevo, richiesta a gran voce a molti di voi, che magari utilizzano estensioni e quant'altro per poter implementare all'interno di Firefox. Fra l'altro, se non ricordo mai, ci sono anche altri browser commerciali che hanno soluzioni simili già native e integrate. Mi sembra che questa cosa si può fare direttamente in Vivaldi, nella versione GX di Opera, insomma, quindi è una cosa che anche altri sviluppatori hanno deciso di implementare all'interno del loro browser. E Firefox si adegua perché deve accontentare ovviamente tutti quanti gli utenti. Il prerequisito, ovviamente, come vi dicevo, è scaricare la versione 131 di Firefox Nightly. Una volta fatto, è possibile attivare questa funzionalità recandoci qui nelle impostazioni, andando in Firefox Labs e spuntando barre laterali e schede verticali. Come potete vedere, una volta spuntate queste due opzioni, andremo ad avere le schede che da schede superiori si trasformano in quadratini con le favicon, dei siti, anzi, delle pagine aperte, e poi abbiamo anche il fatto che si vanno a spostare spuntando la luce barra laterale anche le eventuali estensioni, le funzionalità aggiuntive, tipo questa qui che vi fa schede da altri dispositivi, questa altra funzionalità che è la cronologia, questo altro bussantino che è la cronologia del browser, le opzioni della barra laterale, e qui è possibile vedere anche che non è possibile metterla soltanto al sistema, possiamo anche spostarcela a destra qualora noi lo vogliamo. È una funzionalità in più quella che gli sviluppatori hanno deciso di implementare in Firefox. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa scelta da parte degli sviluppatori e di integrare nativamente all'interno di Firefox. Ovviamente, se voi siete grandi utilizzatori di questa funzionalità, testatela su Firefox Nightlit, fate segnalazioni per eventuali bug, fate segnalazioni con richieste per eventuali miglioramenti di questa funzionalità, in modo tale che quando verrà giudicata matura e pronta a sufficienza, sarà esente da bug e sarà possibile utilizzare al meglio sulla versione di Firefox, quella corrente, quella stabile. Io non so, devo dire che magari per qualche giorno proverò a utilizzare Firefox Nightlit con questo setup. Voglio capire se riesco a trovarmi da una cosa del genere, perché io di solito sono abituato a mettere... Cioè, a me piace l'impostazione classica con le schede in alto. Avere soltanto lì con Cina forse è un po' più difficile focalizzare subito su che cosa sto visualizzando, anche se con le favicon, diciamo così, si riesce ad avviare. Per esempio c'è la favicon di Marcosbox, del Tux, quindi subito riesco a capire che è quello il sito, però se ho due cose vicine, due schede similari, qua non riesco a vedere. Mentre se io ho la visualizzazione quella lì con le schede sopra, il discorso cambia. Ovviamente, vi faccio notare anche un'altra cosa, le barre del titolo su Linux rimane, rimane quella con i pulsanti, quindi tutto questo in alto a sinistra, tutto questo ambaradano non vi viene spostato, è messo lateralmente, quindi non andate a recuperare questo spazio in verticale. Magari vediamo un po' se c'è qualche cosa nelle impostazioni, ma non credo, infatti non c'è. Quindi è una funzionalità un po' integrata a metà, vediamo se magari riusciranno a trovare qualche modo e maniera di massimizzare ancora di più lo spazio verticale, anche se non penso, perché questi sono tutti quanti influenzati dai decoratori, delle finestre, dei vari desktop environment su Linux. Devo vedere su Windows come funziona questa funzionalità. Comunque, spero di avervi fatto cosa gradita pubblicandovi questa notizia e mostrandovi questa funzionalità presente in Firefox Nightly, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se l'utilizzerete o meno, e mi raccomando, iscrivetevi numerosi al canale YouTube di Marcos Box, lasciate un commento e, insomma, sapete come funzionano queste cose. Lunga vita e prosperità, a tutti quanti ci rivediamo dopo le vacanze estive, dopo le vacanze di Ferragosto. Mangiate sano, non straffate con l'alcol e guidate con prudenza. Ciao ciao. Ciao. Ciao.